Sì, è un momento molto delicato, una responsabilità veramente importante per un ruolo che spero di svolgere bene, sicuramente con tanta, tanta umiltà e con spirito di collaborazione con tutti i nostri 3.000 iscritti. È un momento difficile per il Paese, sembra che proprio la politica non riesca più a recepire quelle che sono le esigenze del Paese. Sicuramente veniamo da una stagione complicata, anche perché negli ultimi 14 mesi c'è stata una forte presenza di polarizzazione anche delle posizioni con un ruolo del Partito Democratico che pareva essere destinato alla marginalità. Invece con la crisi di governo che è conseguenza anche del sistema proporzionale che ha il nostro Paese, per cui era legittimo il governo perché parlamentarmente compatibile, nato all'indomani dell'elezione 2018 tra Lega e Cinque Stelle, così come altrettanto legittimo è stato la nascita del governo Cinque Stelle e Partito Democratico. Mi rendo conto che questo possa scuotere un po' i cittadini che si vedono governati per un periodo da alcune forze politiche, per un altro periodo da altre forze politiche, ma se non diamo al Paese una legge elettorale che consente il giorno dopo le elezioni di avere la certezza di chi governa con dei numeri precisi, questo è un risultato a cui ho l'impressione dovremo abituarci anche negli anni a seguire. Anche perché mi consenta fino a oggi, almeno quello che abbiamo visto in campo, molte scelte politiche sono state dettate dai sondaggi, cioè si va incontro a quelle che possono essere un po' così le esigenze del momento, i motivi del Paese e poi alla fine invece nessun politico si prende la responsabilità di fare le cose che veramente devono essere fatte. Noi viviamo in una situazione finanziaria molto complicata, non dimentichiamoci che in questi giorni si sta cercando di scongiurare un aumento dell'IVA al 25% che era stato inserito l'anno scorso come norma di salvaguardia dopo l'approvazione dell'ultima legge di bilancio, quella del 2019. Quindi siamo in una situazione molto complicata dove gli indicatori non sono positivi, dove ci sono incertezze nel settore del lavoro, del sociale ed è chiaro che chi governa ha una grande responsabilità come oggi il Partito Democratico e i 5 Stelle nel cercare di dare un'immediata risposta a chi ha anche più problemi, a chi è più colpito da questa crisi. Mi sembra che molte misure di cui si sta parlando vadano in questa direzione, mi riferisco agli asili nido gratis per famiglie con fasce di reddito fino a una determinata cifra, una serie di incentivi che probabilmente ridurranno il culio fiscale a tutto vantaggio dei lavoratori, evitare l'aumento dell'IVA unitamente a tutta una serie di altre misure che possono aiutare a farci ripartire. Quello di cui secondo me l'Italia ha più bisogno in questo momento è di una pacificazione sociale, cioè di provare a lavorare nell'interesse dei cittadini al di là delle appartenenze per evitare proprio che siano i sondaggi a dettare l'agenda politica invece dei bisogni reali dei cittadini. Tra le tante responsabilità che le aspettano c'è anche quella di riorganizzare il partito proprio in vista anche delle prossime elezioni comunali. Arezzo è la città capoluogo, quindi vostra intenzione è riprendere il comando della città, comando dal punto di vista politico. lavoro amico. Dunque noi veniamo da una stagione non facile per il Partito Democratico a livello provinciale, caratterizzata negli ultimi anni da tante sconfitte, a partire da quelle alcune di Arezzo, Montevarchi, Sansepolcro, Bibbiena, Cassino Fiorentino e in ultima Cortona, che hanno segnato un ruolo sempre più marginale del Partito Democratico e il rischio anche con esso di una marginalità politica della nostra forza politica. Noi dobbiamo reagire con un progetto che è quello rilanciato da un congresso che ha avuto anche una partecipazione importante in linea con gli altri congressi. Infatti nonostante la candidatura unitaria e un programma unitario quindi in assenza di competitività, comunque oltre mille persone sono venute a votare nei nostri circoli. Sintomo che c'è voglia di esserci, di partecipare, di dire la propria unione e di dare un contributo di carattere politico. Il nostro obiettivo principale è lavorare per le elezioni amministrative di Arezzo. Dopo una riorganizzazione del partito che svilupperemo nel prossimo mese, mese e mezzo, ci concentreremo su questo obiettivo perché se il centro-sinistra riconquisterà il Comune di Arezzo, metterà il primo tassello per tornare ad essere protagonista nel territorio a livello provinciale, che è esattamente l'obiettivo che ci poniamo. In questa circostanza si dice buon lavoro. Grazie, grazie e buon lavoro a tutti noi e un augurio a tutti i cittadini della provincia di Arezzo affinché abbiano una politica che discuta, si confronti e sia poco litigiosa o qualunquista. I cittadini hanno bisogno di poter scegliere tra opzioni chiare. Noi ci sforzeremo di fornire con chiarezza le nostre posizioni su tutto quello che li riguarda. Grazie.